A due passi dalla Minerva, Trestor Pavia Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera Servizio Re-Phone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone E con Trestor Pavia si è davvero free Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a trestorpavia.it La cantante Arisa si è scattata un selfie mentre era impegnata sul proprio WC A diciamo così scaricarsi ed ha pubblicato la fotografia su Facebook Polemica a non finire, c'è chi ha scritto che alcuni momenti intimi devono rimanere tali E che bisognerebbe sempre conservare una buona dose di pudore La cantante si è detta sorpresa di tanto sgomento spiegando che bisogna dare il buon esempio tutti i giorni E tu cosa ne pensi di questo gesto di Arisa? L'avresti fatto? È relativo, io non l'avrei fatto però dipende da persona a persona Quindi non posso giudicarlo o meno Ognuno è libero di fare quello che vuole Io personalmente un gesto del genere no Perché? Perché non è nel mio modo di fare per questo motivo Tu però sui social ci sei? Sì sì ci sono, ci sono, pubblico, diciamo che pubblico cose più necessarie Non, diciamo, non oltrepasso il limite E non così personale Esattamente, però ripeto è una cosa relativa Vabbè è un po' negativo, mi sembra esagerato mentre sei Scaricandoti Conto se sei in giro con i tuoi amici va bene però è un po' troppo Tu pensi che sia una mancanza di pudore e che oggi ce ne sia troppo poco? Vabbè adesso c'è di peggio Però sì mi sembra davvero un po' esagerato Tu non l'avresti mai fatta questa cosa? No mai Utilizzi social network per che cosa e quanti selfie pubblichi se li pubblichi? Io li utilizzo per tenermi in contatto, per fondividere le mie cose, per vedere cosa faccio E sì ne faccio tanti di selfie però non li pubblico tutti Ce li tieni per te? Esatto, mi tengo sul telefono, mi occupo della memoria Sei una di quelle che quando va a mangiare scrive sto mangiando? No Superfluo direi Poi ognuno è libero di fare quello che vuole Io per esempio non faccio poco uso di quel genere di selfie in generale Tutto lì Come mai? Perché sei contrario? Non mi piace, non lo faccio Non ci ho mai riflettuto poi più di tanto Nel senso che non mi trovo a mio agio nel farlo Cosa pubblichi sui social network quindi? Non pubblico molto poco sui social network Principalmente condivido qualche link o foto che trovo che mi piacciono Ma per il resto pubblico poco Preferisci altre forme di comunicazione? No, nel senso io uso i social network Non è che non li usi per comunicare Whatsapp con gli amici Ma social network più per informazione Va a integrare lettura di quotidiani Grazie a tutti